Benvenuti, consigliamici, il mio intervento è un'azionanza brevissimo, perché visto che non c'è, diciamo, nessun carità, che è vero, però, che è un'azionanza, si dovrebbe presentare con un carità, o meglio, che è un'azionanza brevissimo, perché in realtà deve essere necessariamente la maggioranza. Noi, come parte della libertà, diciamo che, su di sé, la grande maggioranza, dico anche, all'opposizione, come popolo della libertà, candidiamo, perché io lo dico, certamente, cantiamo il processo nazionale, il fatto esposito, alla casa esposita. E questo faccio, a presto, ovviamente, a chi si vede, a chi si protezza, perché poi, formando, che si è stato già disegnato come vicepresidente alla carica, vicepresidente del Consiglio, che poi non ha raggiunto il numero dei modi necessari. Quindi, la nostra candidatura è di ormai esposito, e poi voglio fare un conciso, proprio per il rischio, che non è, per niente, strumentale. Per un altro, per il rischio, anche per dare qualche nozione in più, ma per rispondere anche alla tipo di Emilio Coniccio, anche in modo un po' prolungatore, ma anche un po' un po' di, che mi è venuto a dire, perché questa maggioranza viene votata sempre operata. Non è vero che è così. Anzi, sbaglia a chi non lo vota, sbaglia a quei consigli comunali che hanno messo, messo fuori con la bandirina, appunto, questa maggioranza, e questo candidato che sta al prossimo pertenza, che non ha sempre operata, il candidato ha la maggioranza del sempre operata. Quindi mi spiace che i consiglieri non si aggrederanno a questo punto perché se non si può preparare è stato un candidato della BDF che ha determinato in modo forte la vittoria dell'elettorale. Il fatto è stato uscito avversamente il candidato dell'elettorale e quindi io credo che sia obbligato da parte di questa maggioranza se si deve ritenere ancora la vittoria, voi parli si devono preparare. E lo dico ovviamente a un bilancio, qualsiasi ragionamento personale che poi la campagna elettorale finisce e viene la politica, voi direi con le altre regole. Quindi è giusto che questa maggioranza si vuole di Stefano Verrara. Poi la maggioranza Stefano Verrara sconderà gli elettori e dà i suoi comportamenti. Quindi non sarà a voi pubblicare questo tipo, sicuramente è il contraddittore, ma la gente se ne vede da conto della contraddizione poste, ma di meglio Stefano Verrara è scelto prima lì e è capace elettorale per tutte valutate e tutte le identità. Grazie a tutti. precedentemente l'opposizione tutta parte era preso attorno alla proposta del Consiglio Rossino. Oggi vedo che una grande opposizione mette nel Stato una proposta di entrare e noi con la Commissione Democratico riteniamo di non rinforzare la proposta che viene nei confronti di un anno, di un altro esplosito evidente la proposta di parte nostra proposta. Voglio aggiungere il nostro obiettivo, perché come tutte le considerazioni di situazioni che sono state, per noi è stato, e insomma voi che è stato a livello di questo obiettivo comandante, sia con il carico di Consigliere Comunale, sia come attenzione a livello di questa compagina e compagina di iniziativa, oggi vi accingerò a votare un candidato seno che chiaramente è una persona che nel momento in cui il Consigliere Comunale ha tutta la legittimità parte della nostra proposta. Però è vero che il Consigliere Comunale di partiti e di intervisto in modo particolare alla possibilità e ai valori di partiti di di partiti di partiti di partiti di partiti di partiti. A partito del movimento di partiti e al movimento di partiti, sto rivedendo sicuramente il tuo copaccio all'Attra, perché mi sostattiamo che le valutazioni e le considerazioni sono parte di diversità quest'anno. Nemmeno quando riguarda gli amici di partiti di partiti di partiti di partiti un formato di fronte al modale, vingono decretando il suo livello del Consiglio umano e quindi con estrema debilità, come se non fosse successo nulla, si votano, si arrestano a essere Presidente, Presidente del Consiglio di la seconda carica di questo ente come importanza, come se non fosse avvenuto nulla in questo periodo, fregandoci letteralmente di quello che è stato, in questo senso, la partecipazione delle pratiche e delle cittadini, fregandoci del posto all'erario che abbiamo apportato, dei momenti in cui abbiamo apportato questo Consiglio umano a dovesse di innovare. In questo senso mi è strano e la domanda che mi è spotale, credo che rimedio alla stragrande maggioranza dei cittadini, che cosa dico a fare con tanta tranquillità, con tanta spiritualità, passare da un punto all'altro, da un anno a dare la notaria e quindi decretare l'edizione di un sindaco e dall'altro a farlo come Presidente del Consiglio. E' tutto strano e quindi, in questo senso, bisogna vedere all'interno di quello che c'è, il gioco a livello della città, quali sono gli interessi, perché tra le cose, questa è la maggioranza, che ormai il politico non c'è più nulla, non c'è più nulla, non c'è più nulla, è questa politica, si mantiene su cosa, altrimenti, le valutazioni che si mantiene, quale è l'idea strategica, l'idea forte politica che si mantiene a tono a questa milione. E questo è quello che noi, come Partito Democratico, ci chiediamo di dire, quest'oggi è in incoerenza, che con l'opposizione, che prima ritenevamo di sostenere, quando in maniera legate il candidato Rossino, oggi Rossino ci fa sapere, a dire, dell'aula politica, della sua politica politica, e da questo, noi ne vediamo atto, vediamo che nasce una nuova proposta, nasce una nuova proposta, che in quella di un altro risposto, riteniamo di sostenere la proposta di Stratus. Grazie.